Benvenuti a questo nuovo video, sarà un video molto breve perché veramente non c'è niente da parlare, squadra indegna, squadra c'è tanti punti, prendiamo un buon in casa con l'ultimo in Cassifio e il Crotone probabilmente arriveremo anche ultimi, una partita giocata veramente con una sufficienza, una indecenza incredibile, questo è il canovaccio di tutta la stagione e niente, direi che ormai l'obiettivo è di non arrivare l'ultimo ma secondo me il Crotone due punti li farà, penso che noi secondo me Massimo faremo due, due punti, una vittoria ma manco se si vengono le partite di avversaria, la vinciamo, c'è molta delusione perché veramente è una stagione che non mi ricordo un pamma così schifoso, così veramente indegno, questi giocatori qua si dobbiamo anche vergognare, un po' diamo proprio, cioè perdere tutte le partite, non fare mai con una vittoria, tre vittorie su 33 giornate, siamo tipo l'Ancona nel 2003 che ne ha fatto mi sembra due vittorie, il Pescara di Zemo quando gli torna in SRA, siamo là, il Benevento, siamo praticamente queste squadre qua, tutti questi record meravigliosi stiamo facendo, purtroppo è così, purtroppo è così, una squadra che non ha più niente da dire, è scarsa, è un allenatore, anche lui che non sta capendo un tubo e le stiamo regalando giustamente, Cortona ha meritato perché alla fine non avviene anche male, una partita che per i non tifosi di Cortona e Palma era anche bella, 4-3, una partita classica di fine stagione con due squadre che, per me il Cortona alla fine si è comportato tutta la stagione meglio del Palma, secondo me, la squadra per me è più indegna, più scarsa la Serie A, il Cortona ha meno punti, però per adesso, perché secondo me avrà più punti alla fine, però perché ha dei limiti tecnici in difesa, cramolosi, però a me è una squadra che si impegna sempre, e niente, iscrivetevi al mio canale, Semi Forza Palma, anche in B, e fate quello che vuole, se volete.